eccoci eccoci qui, spesso non mi ricordo proprio nulla, speriamo di Sì, ti vedo Sì, un bel po' di disastro, perché non mi dà il mirino? Sì, è veramente Ma che ci fai lì in mezzo? Ok, hanno già fatto un foro nella cisterna, che perdiamo l'acqua, ma l'ho detto io, altri soldati, ecco lì Non fermiamoci qui, siamo troppo scoperti! Tango a terra! Tango Non fermiamoci qui, ma poi ci fermiamo, copritemi! Sì Sì Va bene, cos'è questo? Un bug? Bug 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 Chi ci può essere? Che blocca tutto Lì Ma? O lì Ma che Ho scoppiato Attenti a cosa che non trovo sto tipo Eh, ma allora Devo ricaricare Ok, devo far ripartire il gioco Ma dico io Dove? Ah, guarda Oh, che bello Possiamo continuare Ah no, madonna Ma dico io Come si può andare avanti qua? Ah, ti faccio scoppiare tutto Quindi Guarda, guarda quanti buchi qua Perdiamo tutta l'acqua Tutta l'acqua perdiamo Ma che simpatia Cazzo Ma guarda Ma guarda Sì Tenetevi forte C'è lì Ma guarda Peccato Ma perché? Ma sei forte Elicottero Elicottero Vedo Ok, volevo sparare Non ho fatto in tempo Ok, va bene Ci ha dato un po' di problemi Speriamo che le cose si risolvano Non mi ricordo più i tasti Veramente è una difficoltà incredibile Fra quattro giorni L'acqua Esatto L'acqua è andata Speriamo fortunati se durerà una settimana Da questo momento a Dubai Davvero ha la legge marziale I cittadini Non possiamo eschiare Guarda Quello è Diego Prendi un'altra tannica L'avete sentito Lascia stare Prendi un'altra tannica Perdiamo acqua Perdiamo acqua Io qua non ho Armi Allora Se mi ricordo bene Per chinarmi Ero il control Ma non si china Va bene Scusate Con chi state parlando Questo però Sta guardando Non è che devo fare Allora Di qua Ne paro di morirsi Da passare Esatto Di qua non si va Quindi Sono disarmato Non so cosa fare E devo provare Da andare lì Ma questi mi vedono Ragazzi Non ho seta Aspetta Questa stronza È quasi morto Ecco Esatto Sto parlando con te Avanti Levati dalle palle Mamma mi levo Ma mi levo Levati dalle palle Ciao Un gotto d'acqua Mi ripiglio Va bene Non di qua La popolazione Ha sete Ecco bravo Continua a camminare Potuto di amica Eh vabbè Sei gentile Ce l'hanno proprio con noi Ehi Un po' di aiuto Qui Ti sento parlare Bastardi Riggs Sei tu Walker Cioè ma cos'è sotto il camion Come lo teniamo fuori Questo Non vedo un cazzo Ah merda Tieni duro Ti tirerò fuori da lì Ah Senza una gamba Lascia stare Non importa L'acqua è andata Ecco cosa importa Cazzo Non è così Che doveva finire Aveva ragione Su di te Senti Se si scoprisse cosa ha fatto L'intera regione ci dichiarerebbe guerra E perderemmo Ora Nessuno lo saprà mai Sei pazzo Che strano Gould ha detto la stessa cosa Ciò che ho fatto non era bello Ma era giusto Tra l'altro Non è che me ne stia andando da qui Non lasciarmi bruciare Eh Cioè ti dovrei sparare Avanti Walker Fallo Ti prego Allora Aspetta aspetta Devo capire se c'è una maniera di salvarti Perché te ne stai lì così Coraggio Perché sono un soldato Non ho paura di spararti Ma Volevo capire se c'era Un'altra opzione Per favore Ti prego Vabbè farò sta roba Anche se non so se Sei giusto Oh mio dio Poverino Speriamo di avere fatto in tempo Perché zero colpi Bene C'era un colpo solo Neanche un'arma Neanche mezza Tutti morti Neanche una munizione Uno straccio di niente Volker Volker Rispondi Sì Eccomi Grazie a Dio Il trentatresimo è arrivato prima che ti trovassimo Siamo scappati Pensavamo che non ce l'avessi fatta Ho avuto fortuna Riggs Morto Bene No Non va bene Ci ha fregato Ho fregato tutti Grazie a lui a Dubai Saranno tutti morti Entro pochi giorni La città deve essere evacuata subito Già Mi piacerebbe sapere come hai intenzione di fare Lugo Oh Colpa mia Interrompo qualcosa Dannazione Tieni duro Lugo Arrivo Farò in modo che abbia il messaggio Vai a fare in culo Calma Calma Non diciamo parolacce amico Questo dopo tutto È un programma destinato a tutti Come Tutti hanno sete C'è veramente rotto questo Questo programma E sta radio Ma pensati Ma è nulla proprio C'è neanche una arma Una munizione Niente Allora la pistola ce l'ho Ma mi sembra quanto scarica Ne hai tu No Ma che Allora proviamo Ah là vedo Un'arma Allora se scendiamo Molto probabilmente Non riusciamo più a salire Non lo so se C'è vero Ma Andiamo Eh sì Ah questo faccio Ok ok Calmo 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 E quindi mi sa Sì che non possiamo più Tornare su Oh 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 Ok abbiamo ricaricato 1 2 3 4 5 6 C'è un Elicottero Merda Soldati dall'alto Arribano Oh Non suona molto bene Marti Non essere timido Siamo solo tu Io E qualche migliaio Di ascoltatori Assettati E moriamo tutti Dalla voglia di sapere Oh What you gonna do Oh What you gonna do Yeah Marty gonna die When they come for you Wanting water And buckets And things like tools What you gonna do When they come for you Ah 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 Oh marti 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 Sì 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 È un po' strano eh Che vorrei qualche colpo in più Non ne vedo mica No no Ok mi ha spostato l'obiettivo Mi pare di conoscerlo Lugo Attento Casa cazza Peccato Levati di noso Salva Lugo Dove mi stai portando E' finita E' finita tenente Metta giù l'arma E il sergente Lugo Vivrà Non ascoltarli Ho detto silenzio Walker Se riesci a sentirmi Hanno preso Lugo Il trentatresimo Mi ha inchiodato Non riesco a raggiungerlo Mi servi qui Ora Riesci a sentirmi tenente Non sto scherzando Si arrenda subito O il sergente Lugo Muore Avanti Walker Dove cazzo sei finito Allora Lugo Adams Uno Oh Lugo Attento Nemico a terra Era ora che arrivassi Questo era un nemico Ma l'avevo manco capito Allora qui ci voleva stare un fucile No Ma scisto Così Ok E beh Mi sono incastrato Ma dico io Boom Dove arrivano questi Tieni imprimuto Error e raccogli munizioni Oh Santa Però Che roba Buono sapersi che c'è una cappa lì Hai rotto il tasto Cuoco Interessante Da dove devo passare Io Ma Allora Ma quante ce ne sono Munizioni Munizioni al massimo Ah me ne dava mano a mano che le consumavo Allora Oh forse ho capito Ai Mato Beccato Cicchino Andiamo Andiamo Noi siamo a posto E tu Tutto a posto anche qui Attenzione uomini del 33 Pupazzetti della Delta Force in soldo Ripeto Delta Force disponibile al centro commerciale Ne arrivano altri Dobbiamo sistemare questo tizio Prima dobbiamo uscire dal centro Vedete un modo per attraversarlo Non da questa parte Forse più in là Ok allora Eliminate questi stronti No vabbè Spara pure sai Beccato un altro Quindi secondo me Devo ritornare Ma dove è finita la strada Va bene Non so proprio più come fare per andare là Oh Bobo bo 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 Mi hanno bloccato qui Indiegro ci pensiamo noi Beccato un altro Siete nemici? Ah no Ok Ah ecco come hanno fatto Maviamoci allora Grazie ragazzi Adesso è tutto chiaro Ci muoviamo Nemici sulla destra Ok Un po' di aiuto qui Altri nemici al negozio di scattoli Ho una domanda per voi Quali sono le otto parole che conoscete Che fanno più paura? Siamo la Delta Force Siamo qui per salvarvi Ha ha Questa mi fa impazzire Cosa c'è? Non è divertente? Ma fanculo Sei tu quello che lavora per un criminale di guerra? No Fanculo tu Non sapete un cazzo di cosa ha dovuto fare quell'uomo E intendo Dovuto Fare Lo deve scegliere Come tutti quanti Libero E bene tu Ricordi il cancello Cos'è questo odore? Sembra puzza di bruciato caro mio Sopra il ponte Via 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 Vorrei proprio vedere il zuccherino E ti pareva te Copritemi Ricarico Dispensi 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 Tango a terra Cerca in arrivo Fuoco di soppressione Ora non vanno da nessuna parte Oh Adam scusa Non ho parole Tu non sei Adam Dove è andata? Ma da lassù non viene più nessuno Magari è lugo quello Siamo molto affidabili Non era lugo Tiratore salto cecchino Oh mi piacerebbe tanto sapere Guardami le spelle Ricarico Tenetemi lontani Questo li terrà occupati Lo faccio fuori Ricevuto Tu è bravo Ricevuto Allora un attimo solo Marco e no Io devo rompere qua forse No Pare non funzionare Volevo fargli cadere la sabbia addosso Ma non so se riesco Siamo in movimento Datevi una mossa Che bello Se capisci dove devo andare Allora faccio un salto Scivola Ah ma dai Ma sì Ma dico io Attenzione Attenzione Fuciliere sul campo Puttana Muoviti Inchiudatelo Beccato Ora non 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 Uffa Ricarico Tenetemi lì lontani Siamo in movimento Datevi una mossa Rapporto Allora io non ricordo una cosa Vediamo se funziona R Esatto Disperdersi a prendere il perimetro Disperdersi Tutti quanti È un ordine Lo scasali Proseguite Impostate un perimetro difensivo Copritemi Cazzo Sto avanzando Dove sono Resistete Vi aggiro dal metro Preparatevi ragazzi Contatti Andate laggiù Cazzo Andiamo Andiamo Cos'è 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 No I pesanti No Ma hanno chiuso anche No No Madonna Allora No No bombe Non ho niente Sto ricaricando Stai Siamo Dannazione Volker Sbrigati Non ho occupato Ti sta facendo insostenibile qui Ma che cavolo sta succedendo Ho detto che ci sta lavorando Andiamo a terra Andiamo a terra Ma Insomma Cos'è Con la roba lì Manichini No No Non ci posso credere Sopra il ponte Via 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 Sto attraversando Copritemi Andiamo Un uomo a terra Rimani là E copro io Perché Allora Dai Con più calma Me l'ho dimenticato Che non avevo più L'altro fucile Sopra il ponte Via 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 Scendono dal lucernario Lucernario Cadono dal lucernario Sto attraversando Copritemi Indietro Uciliere Diretto qui Nemico a terra Cazzo Nemico morto Devo ricaricare Attenso soldati In arrivo da te Siamo in giro di Walken Sono dal tuo lato Edis è in modo di aggirarli Ricevuto Tenetemi lì lontani Un attimo Ok Devo scavalcare Dai Devo cambiare Arma Mi serve un'arma Più Più Oh mio dio Sicuramente non questa No Dov'è il mio bel Fucilozio Ma guardate Non mi piace troppo Andiamo a vedere qua Ragazzi resistete Eccolo qua Questo mi piace Questo 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 Bene Ma allora andiamo a subire Questa cosa Lì Hola Chissà chi lo sa Qua Cosa cazzo Ok Infatti Proprio Ti prendi in giro Non ho bisogno di queste cattate Stai fermo Dannazione Volker Spengati Non ho occupato Si sta facendo insostenibile qui Ho detto che ci sta lavorando Cazzo Presto Presto Ma guardate Che roba strana Chi ci capisce E' bravo Metraglia Interessante Ma no Scale Munizioni Ma copertura Ma dai Però Adesso Vai Sopertura In studio Arrivano molte segnalazioni Gli stronzi preferiti da tutti Sono al centro commerciale Si dice che stiano cercando di salvare Altra gente Si fanno voler bene Continueranno a provarci Anche se così facendo Vi uccideranno tutti Fino all'ultimo Assicuratevi di passare A ringraziarli Sono stufo di questo stronzo Da che distanza pensi Trasmette Ma no Non lo so Lo sentiamo da quando abbiamo Superato il fronte Perché Se non evacuiamo subito La città Moriranno tutti i segni Ah ecco perché Ho finito le munizioni Dobbiamo solo capire Da dove trasmette Che è che mi sta sfiorando Vediamo di capire Dunque Chi sei tu Ma guarda che Nemico a terra Oh Non riesco a Ce l'ho fatta Veramente Questi tasti ragazzi È una roba allucinante C'è C'è Pessima scelta Di tasti Veramente Allora mi devo Cavere giù da là Ma io Volevo un po' Di munizioni Lo trovo Scivola Vai Calmo Merda Contatti Dove sono? Sopra di te Presto Siamo sotto fuoco pesante Tenete duro Ci sono Sì sì Tenete duro Tenete duro Allora Sopra Cerchiamo di capirci Qualcosa Mamma mia Dobbiamo salire Ehi 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 Tango a terra Dai dai Ricarica pure Bravo Poche munizioni Poche 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 Allora Oh Fai piano Marty Non vuoi rivelare La tua posizione Non vuoi che gli altri Vengano a sapere Dove ti trovi Vittorio Voglio dire L'ultima cosa che vuoi E che gli altri Vengono a sapere Dove sei Questa non l'avevi Prefitta Lugo colpito Mi mettilo in sesto Non posso Sono blocchiato Dannazione Lugo sei con noi Lugo Santino Mi Basta che tieni duro Dai Bordera Io sto morendo Presto Walker No Da dove No Non da qui Ma no Oh mio dio Poteva andare peggio Merda Soldati Dove sono? Sopra di te Presto Siamo sotto fuoco Pesante Tenete duro Ci sono Figlio di puttana Dai Dai Devo rilasciare Un po' di vita Devo ricaricare Guardatemi le spalle Allora Più cauti Vai piano Marty Non vuoi rivelare La tua posizione Non vuoi Che gli altri Vengano a sapere Dove ti trovi Voglio dire L'ultima cosa Che vuoi E che gli altri Hai munizioni tu? No Dunque Lì su Ma tipo Lancio un'adesiva Mi è arrivata addosso a me No Un'adesiva Ma una adesiva Ma ne faccio Stratta Calma Si lo so ragazzi Calma Anch'io ero messo male Sono persino morto Cos'è sto rumore? E arrivano altri Alicottero Ma quando finirà? Voi ragazzi Mi impenerete Allora Ve la siete cercata Struzzi Muoviti figlio di puttana Muoviti Alfa 2 E ho beccato uno Beccato Impostare un perimetro difensivo Per Cazzo A destra Controllate il grattino di fuoco Allora che ti ho visto Te l'avevo detto Copritemi Ricarico E a me servono munizioni Ma che cavolo è? Impossibile Negativo Subiamo perdite multiple La mia squadra si sta ritirando Muoversi al mio obiettivo Mi stanno affossando Qui Walker Ma non ho fottuto piano Fatemi strada fino all'ultimo piano Potete usare l'abune per attraversare Io vi copro da qui Ora muovetevi Non c'è modo di passare Siamo bloccati Non siamo bloccati Walker Libera la zona sotto di noi Ci caderemo con la corda Sotto Sotto Beccato un altro Oh Bravo due Ci muoviamo il movimento Datevi una mossa Tenete la posizione Muovete il culo Lo faccio fuori Libera Ora tocca a noi Via Guarda ma cosa fai lì Mi rinco a terra C'è il movimento Occhi su di lui Ecco Attenti RPG Dove cazzo sono? Non ha un abismale Walker prendi quel RPG In tango a terra Ripeto Uomo Allora intanto dove è l'RPG ragazzi Che non lo vedo Ci muoviamo al mio segnale Non lo vedo Andate laggiù cazzo Proseguite Oh 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 Beccato Questo li terrà occupati Abbiamo fatto scoppiare tutto Delta in arrivo Ok C'è più niente mi devo muovere da qui Va bene Va bene Allora Munizioni 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 non le trovo Allora Domanda Cosa è questo? Usa torretta Vabbè Ma dai ancora Qui c'è un cavo Allora forse ho capito Devono venire qui da me Devono salire Stanno per sfondare Stanno avanzando Cazzo moriamo come mosche qui fuori Disperdersi e prendere il perimetro Disperdersi Tutti quanti Ogni tanto questo gioco si blocca così No 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 Allora bisogna capire cosa fare Dunque Non posso buttarmi giù chiaramente Non c'è più niente da fare Un piccolo bug Peccato era una bella quella cosa Ma a destra dove? Non c'è nessuna parte Vedi che non c'è nessuno Il bello è che sento le voci Bloccato Mantenete la posizione Ci servono rinforzi Ragazzi vi sparo perché non vedo nessuno E si trupperò conмоzioni Vori dalla visita Non c'è nessuno Ma a destra Unsacciate qui Ne ho beccato uno Beccato Senta in attivo Riforti da indietreggiare venite qua invece quello lì mancava ne mancava uno ma dico io ragazzi vi giuro non c'è nessuno si signore controllate il rato di fuoco a destra andate laggiù cazzo ci saranno per smontare andiamo andiamo ora e dalla posizione è un peccato uno peccato proseguite risperdersi tutti quanti che noia in moto eccovi tengo a terra mantenete la posizione quindi vengono da lì cazzo moriamo con le mosche guardami le spalle ci muoviamo al mio segnale portate al perimetro aspettivo avanti sparato ingaggio eccovi peccato è vero però sei pesante 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 peccato madonna quanto resistono i pesanti muoviti figlio di puttana muoviti merda 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 a destra controllate il rato di fuoco a destra ci servono rinforzi copritemi cazzo rinforzi attenzione attenzione fuciliere occhi aperti si muovono occhio ai bersagli ce n'è uno allo scoperto cazzo mantenete la posizione ordini ricevuti attaccare ancora pare così discommodo e così escano non so il parca muovete il culo ecco infatti muovetevi per favore vado dentro oh vai avanzare si cazzo moriamo come mosca in un fuori hanno paura quindi ordini ricevuti attaccare ricevuto due due bravo ricevuto da nessuna parte ripeto dai ti prego cioè non state facendo niente ragazzi urlate urlate ma qua non succede niente adesso gli butto una granata la dentro c'è veramente avanza sparando come sto avanzando preparatemi ragazzi con i due due abbiamo un fottuto un uomo a terra scriviamo perdite multiple la mia squadra si sta ritirando fuoco fuoco rapporto ricevuto mantenete la posizione ma guardate chiudateli aprire il fuoco è un ordine servono rinforzi lo faccio fuori dove sono i dannati rinforzi fuoco di soppressione delta in arrivo avanzare avvena la lancio la perché mi sono stancato disperdersi a prendere il perimetro adesso adesiva via fuoco fuoco ricco consumato è tutto conoscete gli ordini andiamo stanno per sfondare impostati al perimetro difensivo fuoco 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 Sì, signore! Guardate il rateo di fuoco! A destra! Attento al fuoco! Corazzo sparato! Delta in arrivo! Ricevo un... Qui, due, due! Abbiamo un postuto! Uomo a terra! Risperdersi a prendere il perimetro! Passo! Questo di tutti quanti! Ricevuto! Dai, però! Fuoco di soppressione! Bloccateli! Dove sono i dannati rinforzi? Posso spararli? Il figlio di puttana! Inchiudateli! Venete la posizione, signore! Capire il fuoco! È un ordine! Andate da giù! Sanno per sfondare! Da perdere! Ottieni di tutti! Attaccare! Non portate il fuoco! Adesso! Nuovete il cuolo! Avanzale! Buona volontà! E' questa a nostra mani! Vensiudateli! Ecco! Fuoco! ora non vanno da nessuna parte che barba che noia ma poi anche farlo dentro peccato sono bellissime come romani ma che poco ragazzi riuscite a farli fuori voi non lascia che ci seguono ricevuto sulle scale imboscata attenzione abbiamo uscire da qui hanno bloccato la porta walker serve all'uscita vai saltare la porta un delato da inglese para alla porta muovendovi lo faccio fuori sono dappertutto cazzo ma insomma beccato il figlio di puttana diamoci un bel nome no mamma mia che storia che sono veramente paurosi dai venite fuori da lì siamo dai che ci siamo quasi ma poi devono anche salire lassù disperdaci tutti quanti avanzo sparando impostando il perimetro difensivo andiamo 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 si signore ecco fuoco fuoco dannazione negativo muoviti figlio di puttana muoviti ordini ricevuti fuoco ci muoviamo il mio segnale potete chiamarli però voi bloccateli ho messo a nanna quegli strunci ora non vado a vedere vai bene fuoco guardalo signore aprirai il fuoco è un ordine lo faccio fuori e inchiodateli delta in arrivo squadra alfa brava due siamo in movimento datevi una mossa la mia squadra si sta ritirando avanzare fuoco a volontà cioè si arrabbiano quando gli uccido con le robe lì di cristallo che tra l'altro sono bellissime ma da dove arriva oh non mi sembra cioè fanno finta sto arrivando arrivo sto ucciso non succede niente questo li terrà occupati ah ecco cittino occupato di indietreggiare avete paura venire fuori ma che quella porta non si sfonda questi due guardano qui ci muoviamo al mio segnale copritemi cazzo sentite rasta guardate il fuoco è un ordine andiamo avanzare dove hanno altre quelle cose di vetro da romperli fuoco a volontà questo li terrà occupati ora non vanno da nessuna parte preparatemi ragazzi contatti riporti ricevuto indietreggiare avanzare al mio segnale indietreggiare avanzare vediamo se si arrabbiano così e dai no no parole no no parole eh magari c'è tutta quella scala e quindi dopo si volano verso di qua si si ora non vanno da nessuna parte qui alfa 2 alfa 2 ne ho beccato uno beccato avanzare negativo subiamo perdite multiche la mia madre si sta ritirando ci vediamo il mio segnale no ritiratevi venite ricevuto avanzare muovere vorrei volare ma dai voi cosa fate lì bloccati adesso ti spari un piede e non ti muovi dove che non è vero falso non stai avanzando ti vedo che non ci sei ingaggio delta in arrivo ripeto impossibile cioè sarà uno che fa tutto col pan oh interessante questa cosa non la sapevo che potenza no quello quello non si rompe inchiodatele no vieni fuori per favore ricevuto 22 bravo ricevuto risperdersi affrendere il perimetro risperdersi a tutti quanti e devo sempre capire da dove vengono rpg attenzione rpg attenzione ai eccolo lì peccato un altro che li prendiamo per fame questi escono perché hanno fame si bloccateli l'amico a terra saliamo andiamo sul tetto oh madonna ai 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 poi poi ok peccato uno peccato peccato dai ragazzi andate avanti su quindi devono fare quella strada lì prendere la scala esatto ma sfondati diciamo che non sono stupidi paura e pensare che volevo fare un gameplay lungo per tentare di finirlo in fretta perché è molto bello ma veramente una sofferenza con questi tasti non si bravo ricevuto bravo bravo due siamo inganno stanno per sfondare fuoco è un ordine c'è rompo il cemento ma quella macchinetta lì no e neanche questa cassa di legno cos'è che fa eccolo là dai avanzate davvero però dai rapporto rinforzi sì signori dove sono agli attenti rinforzi avanti spalato è un peccato uno peccato mantenete la scuola e la scuola avanti avanti fuoco a volontà avanti avanti al fuoco dai però dai sarà solo uno due vieni fuori avanza copritemi cazzo ricevuto 2-2 ripeto impossibile a destra guardami le spalle siamo in movimento negativo la mia squadra si sta ritirando non ritiratevi non ci credo non è possibile e si che è aggiornato è tutto il gioco possibile che ci sia creato un bug del genere dai vieni fuori no allora vediamo così facendogli sentire che ci muoviamo sto anche ricarico tenetemi li lontani sto ricaricando ragazzi venite fuori potete uccidermi dove mantenete la posizione indietreggiare accelto al fuoco ci servono rinforzi ci servono il cecchino ci servono il mio segno viene sotto accorti che c'è un cecchino ci servono rinforzi avanzare al mio segnale attento al fuoco avanzare fuoco a volta ricevuto bravo ricevuto impossibile ripeto impossibile passo andate laggiù cazzo non mollate stanno per sfondare negativo subiamo perdite multe ne ho beccato uno beccato ho messo a nanna quegli stronti dai sali lungo il cavo ricevuto ci muoviamo al mio segnale tenete la posizione rinchiudateli no signore impostate un perimetro difensivo qui due due abbiamo un fottuto uomo a terra ripeto uomo a terra passo cecchino cecchino andiamo riporti cazzo moriamo come mosca qui fuori muoviti figlio di puttana muoviti arrivi ecco fuoco fuoco dannazione rapporto avanzare sta ricaricando aprire il fuoco è un ordine datevi una mossa preparatevi ragazzi non vanno da nessuna parte mantenete la posizione vado dentro copritemi cazzo si muoversi al mio ordine ma dove falso conoscete gli ordini andiamo dai deciditi qui alfa due alfa due due mi sentite in gaccio ecco fuoco fuoco guardami le spalle eh basta che esci negativo subiamo perdite multiple la mia squadra si sta ritirando preparatevi ragazzi scontatti andate a fuoco non vanno da nessuna parte ora non vanno da nessuna parte ne ho beccato uno beccato ma siete anche falsi non vanno beccate nessuno andiamo tallo sto ordine ah è quello andiamo ti hanno dovuto io rinforzo ho ricevuto impossibile ripeto impossibile ah sì credevo io guardami le spalle basta che esci se ci stiano occupati sì se non esci cioè secondo me quasi conviene che li uccidano loro se escono e se quando escono che noia si non è possibile ingaggio un perimetro difensivo andiamo andiamo ora inchiodateli si ma mi inchiodo da solo dai fammi andare via fammi andare avanti che già avevo preso in mano per fare una partita forse ho capito un po come funziona la faccela che adesso c'è un altro è morto anche morto andate avanti è morto non è vivo quello lì è morto allora proviamo così c'è un'armina del cavolo non ho più un mitraglione potete venire fuori fifoni è incredibile il gioco si ribella da solo bisogna uccidere l'ultimo per strigherare loro che vadano avanti che devono andare lì e si devono calare qui e poi cosa facciamo chissà chi lo sa guarda cosa c'è uno in movimento serve un riparo ooooh uno esce dal riparo visto visto un nemico ucciso lui? accidenti e niente si è mi sta venendo una certa noia tutti i miei proiettili li devo consumarli ma lì se si si noia se pensi senti senti che dai venitemi a prendere per favore dai li uccido io adesso mi sbaglio adesso sparo a lugo eccoli dove è quella? eh dove è andato Adam vedete tutti e due lì tutti e due lì lì dietro tutti e due lì dietro dove è andato con le scale sono tutti lassù cioè arrivano due ogni mezz'ora come mai come mai questa storia dai però ma guarda ricarico ho del movimento addirittura d'arrivo lugo via altri soldati sul tetto fuciliare in arrivo eliminatelo nemico morto rimani giù cazzo libero cosa libero passiamo di là anche io e indietro e allora tutti in coro alleluia alleluia ciao ragazzi ma insomma che mi dici di voi due si si a posto a posto ferocosto sentito veniva da dietro la porta preparati via ora cazzo di arma fallo ora non sparate mi arredo che diavolo significa qualcuno non vuole più giocare al soldato come ti chiami? sergente maggiore josh forbes matricola 867 non sei un prigioniero di guerra per quanto mi riguarda non sei nemmeno un soldato non puoi posso fare quello che voglio ora lo stronzo alla radio da dove trasmette? il dj è al sicuro non arriverete mai a lui è un problema mio non tuo là in cima al palazzo trans emirates lugo se raggiungiamo la torre pensi di poter usare il sistema radio un'evacuazione di massa in arrivo non ci sarà nessuno da evacuare prego avanti capitano siamo nel deserto quanto pensate che sopravvivrà a questa gente senza acqua? gesù il colonnello voleva solo tenere in vita la gente ricordate lo terremo a mente la prossima volta che provo il tempo di dubai sta per scadere signori muoviamoci oh oddio che incubo e allora chi si occupa del dj? di che diavolo parli? non vorrai che passi il testimone gli rubiamo il microfono tre soldati contro un ciccione con l'ipod non sono molto preoccupato devi aspettarti di tutto adams adattarsi e sopraffare stronzo ehi con qualsiasi mezzo in che direzione Lugo? nord lungo i tetti dovremmo arrivare direttamente a lui mi piace piano elicottero in arrivo non credo stia cercando alla prima volta dove è diretto? torre radio probabilmente rinforzi ottimo giusto quello che ci serve ehi si grato per il tiro al bersaglio in più che spettacolo sembra un cecchino vicino a giudicare dal suono passi felpati cosa abbiamo? un'altra rivolta i dannati civili sono fuori controllo proprio come dopo la prima tempesta tutto quel lavoro per niente per il colonnello si può ricostruire a che scopo? non ci sarà più nessuno vivo adesso oggi sei uno stronzo lunatico mi serve una cazzo di sigaretta sai se c'è Crosby? si alla postazione Crow 2 oggi egli che voglio qui le mie sigarette tra dieci secondi o sono cazzi suoi? serve a calmarti nessun problema ancora non sanno che siamo qui silenziatori diamo un'occhiata silenziatori seguimi Lugo allora cambiamo l'arma brutto volo è stato un becilla sì dovete scusarmi questo posto è un macetto diresti che ci è passata una tempesta non è una visita di cortesia strumento pensi di farmi tanta paura ti dirò una cosa amico io non sono bloccato quassù con te tu sei bloccato quassù con me soldati in arrivo con le funi sì signore no signore dovevo essere un po' più furbo però eh veramente beccato moriamo come mosca qui fuori ricevuto 2-2 bravo ricevuto impossibile ripeto impossibile fucile in arrivo dalla sala occhio al tizio col fucile lungo a terra me ho beccato uno beccato in arrivo in movimento stronto beccato hai ucciso ma è stato visto altri tango in arrivo con la corda arrivano non è in chiudere uccidete sti figli di puttana rimani giù cazzo buonizioni tenetemi lì lontani devo ricaricare attenzione fuciliere 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 allora qui c'è un'arma ce l'abbiamo ce l'abbiamo al bar al bar chi è che spara tu 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 ahi ah no era un terranello credo di averlo appena fatto quindi quindi sta ricaricando da qua aia mi serve copertura qui dipende quale poi ce n'è anche uno qui intorno poi ce n'è anche uno ogni volta ogni volta che mi avvicino quello salta fuori non mi fa mica andare non è ora ahi allora cosa bisogna fare per far rimuovere quelli vediamo niente che stress allora quanto pare ce n'è uno lassù ma poi qualcuno che come spara da un'altra parte ok oddio adesso iniziamo che vengono fuori una volta ogni morte di papa ah guarda un'ondata mai vista veramente l'infero stronzo peccato un'ondata 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 che un'indica Quindi? Ah, un bel pezzo. No, ma no. Ma no. Ma no. Ma no. Ma. Cecchini oltre la strada. Siamo bloccati. Eliminiamoli. Sì. Fai fuori quei dannati cecchini. Sì, sì. Sì, 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 sì. Bene. Sì, sì. Sì. Cos'è questo rumore? Allora, dov'è? Vala. Guardalo. Poi. Ok, non c'è più nessuno Basta a vedere adesso È un errore Walker Non riuscirete a portare questa gente attraverso la tempesta Devo provare colonnello, è l'unico modo No, non attraversiamo palazzi qua Walker, cosa stai facendo? Non puoi farlo amico Fermo, smetti la cazzo Cazzo Walker Gesù, cosa cazzo hai fatto Walker? Mi stava sparando credo Mi ha preso alla sprovvista Ehi, succede Forza ora Mi ha preso alla sprovvista Ok, colonnello Mi chiami John Oh, sì signore John, iniziamo Non sta registrando, vero? Cosa? No Certo che no Bene, non voglio Devono sentire le mie parole Non la mia voce Capisco perfettamente Sì, credo di sì È stato un amico in questi mesi È stato utile Avere a disposizione qualcuno Che ascolta È molto carino da parte sua, signore Cosa sta facendo? Oh, mi dispiace E questa penna non funziona Ne prendo una Ma? Sapete, sento quello che fate E non posso evitare di farmi domande Chi va in giro a rompere la testa della gente? Con un fucile, poi È fuori luogo È privo di senso pratico Fatti una risata finché puoi Non mi dispiace Un'altra torre Un sacco di armi su quel tetto Merda Non si passa finché non lo ripuliamo Ma va Nessun problema Adams Tu li selezioni Io e l'Ugo li facciamo fuori È il mio piano preferito Scegli il bersaglio, capitano Prendo l'altro Quindi? Ah, io selgo Questo selgo Ma scusa Non dovevamo sparare assieme Mi avete sparato? Mi piaceva questo Ma che spiritoso Devo ricaricare guardatemi le spalle Madonna RPC sulla pista da ballo Aveva un carico Non lo conoscevo bene Beccato Oh, bravo che hai fatto Crollare la sabbia Crollare la sabbia Adosso Come cavolo l'avete fatto Eh, no lo conoscevo l'avete fatto bello si può andare? no ancora no bisogna ripulire e ci vorranno giorni vero ragazzi che servono giorni? dunque non fare l'idiota dobbiamo prima ripulire quel tetto si vola ripulire quel tetto allora io sinceramente ragazzi non vedo più nessuno dai che ci vogliamo su vado ecco sono rovinato è già arrivato uno sono morto ma porca vai ma perché? ah che stress ma perché? mi deve fare star lì dei giorni merda non si passa finché non lo ripuliamo nessun problema adams tu li selezioni io e l'ugoli facciamo fuori dai mo il mio piano preferito scegli il bersaglio capitano preso trentitresimo inizio tango a terra più cecchini avvistati vicino alla pista da ballo li avete sparato mi piaceva quello torretta lato destro mamma mia che cattiva quella torretta gli mancavano solo due giorni alla pensione c'è movimento ho chiuso di lui sto ricaricando chi è stato? tu sei rpg sulla pista da ballo dov'è? strutto peccato ora non vanno da nessuna parte aveva un cane forse beh non lo conoscevo bene occhi aperti si muovono torretta spara filestrino che cura è questa torretta nooo eh sì mi si utilizza una mossa forza è bravo eh merda ecco che sfuma il torneo di fantaputtol sintonizzatevi su 97.6 per la verità maniaco ti rompo il manichino allora vediamo se ci esponiamo se viene fuori qualcuno ricarichiamo vediamo se ora non fare l'idioto dobbiamo prima ripulire quel tetto si tetto maledetto non viene fuori nessuno ma guarda che storia te la fa penare proprio allora un attimo aveva moglie e figli potete riprendere nooo era quello 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 c'era c'era pieno sotto eh venite voi a pulire dopo vero grazie ragazzi come un cuccomero dopo che ci ha giocato Gallagher quello mi fa chignare voglio dire sul serio perché tutta questa violenza amico daranno i videogiochi scommetto che sono i videogiochi ma che simpatia wow dove è sto dj abbiamo i minuti contati signori conoscendo Conrad i rinforzi saranno già per strada tocca a te Lugo voglio quella radio pronta in meno di due minuti ok non preoccuparti se fare il mio fottuto lavoro che posto alla discoteca munizioni proprio lì ci fidiamo? per che questo tipo ah ecco ecco no i ascolta si scopre che il nostro dj preferito è Robert Darden ha lavorato per anni per il Rolling Stone l'Hunter Thompson dei pezzi sulle gaff delle celebrità Darden se n'era chiaramente andato quando siamo arrivati ma a giudicare dai suoi appunti pare che abbia provato a fare del buon giornalismo note sull'insabbiamento dell'evacuazione la tragedia il costo umano forse il tempo passato tra i soldati l'ha ripulito da un po' di stronzate chissà ma è un vero peccato che questo Bob Darden non rispetterà mai la scadenza il costo della nostra presenza qui continua a crescere discoteca con un letto? non è una discoteca ancora? si scopre che il nostro dj preferito è Robert Darden ok no no non è proprio discoteca Robert Darden è quello là guardalo ehi ragazzi come se come se quell'arma fosse vera andiamo il tempo passa Lugo ci sto lavorando questa piastra è su misura ma ci vorrà un minuto cos'era quel rumore? delle voci? tranquillo soldatino è solo un eco radio le sentiamo sempre quelle stronzate un cosa? il segnale che rimbalza sulla barriera ehi ma guarda che genietto roba da manuale tu sei il tizio che ha costruito un sistema radio cittadino con pezzi di ricambio è incredibile no beh l'hai detto tu non io vedo che hai potenziato il trasmettitore ma fin dove puoi arrivare davvero? verso l'infinito e oltre o alla barriera è lo stesso stronzate uomo di poca fede che velocità giravano quei giradischi prova un po' wow è stato più facile del previsto grazie levati di dosso cazzo hai perso il cervello cazzo ma sei davvero così ingenuo cazzo ci ha tenuto addosso il trentetresimo tutto il tempo non ci avrebbe mai fatto uscire da qui ho fatto ciò che era necessario non era una decisione tua beh fanculo l'ho presa basta così ce ne occuperemo più tardi a chiunque sia in ascolto sono al comando di una forza americana di evacuazione siamo qui per salvarvi ma prima il trentetresimo pagherà per ciò che ha fatto lei mi ha deluso Walker non capisce? nessuno lascia Dubai ho tentato 1300 morti tra uomini donne e bambini se non vuole imparare dai miei errori allora non c'è altro che io possa fare la sua lista dei caduti è già lunga addio capitano cazzo fa riparo e l'evacuazione è andata e adesso? siamo in trappola l'elicottero è l'unico modo per andarsene ma tra qui e lì ci sono un sacco di armi nella torre muoversi andate voi due vi copro io da qui col cazzo non c'è tempo per discutere andate Lugo ha ragione coraggio raggiungi l'elicottero Lugo appena arriviamo all'elicottero tu corri non preoccupatevi per me andate andiamo ehm di là oh oh ricarico tenetemi lontani Volker svegliati ok P90 è buono da luoghi chiusi tipo adesso qua ok sotto siamo quasi fuori Lugo vi stavo già aspettando non mi sembra così facile allora F era questo attenzione contatto all'entrata cosa c'è questi giul non scherzano un cazzo figlio di puta strozzo peccato e non dei f f f f f su f f f f f Devo ricaricare, guardatevi le spalle Nemico a terra Posso aiutare, capo, dammi un bersaglio Dai, potevano esplodere tutte quelle bottiglie Ma dico Avanzare, muoversi, cazzo Bersaglio dietro il bar, muoversi Ricevuto, avanzo, tutto posto In attesa del bersaglio Sì, credevo un bersaglio In attesa, sono da solo, eh Allora, ma qui Hanno tutti i P90 Posso aiutare, capo, dammi un bersaglio Bersagli ancora non ce ne sono, direi Non se ne vedono, eh Allora, andiamoci una bella mossa Andiamo dietro queste casse No Ma da dietro d'alto Ma dai Saltiamo la scena Come se Lugo, appena arriviamo all'elicottero Tu corri Sì, eh, sì Sbaglio la strada Andate Andiamo Andiamo Che cavoli Avevo sbagliato anche arma Siamo quasi fuori Lugo Mi stanno già aspettando Solo uno, rapporto Solo qui Pensate alla porta Prepararsi Tutti All'entrata Questi giù Non scherzano un cazzo Ma Nemico a terra E' in movimento E' in movimento Allora Abbiamo detto Che qua su Da qualche parte C'era qualcuno Quindi Avanzare Muoversi cazzo Un perimetro all'eliporto I delta non devono arrivare all'elicottero Affermativo Siamo a posto Solo due Potete muovervi Ma E' in attesa Del bersaglio Allora dieci Sulle scale Ma Pensate Calma 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 Che devo capire C'è qualcuno Qua Posso aiutare Capo Dammi un bersaglio Adesso Te lo dico Il bersaglio Aspetta pure Aspetta Aspetta Ok La Avanzare Forza E' in attesa Il bersaglio Ne arrivano altri D'amato Non sopra Io Attenti Tizio col fucile Verso di noi Tizio col fucile In attesa Del bersaglio Ricarico Cosa sta succedendo Dai sui che dobbiamo salvare qua Che sta succedendo Un po' di panico Fate piano Mi servono munizioni Niente Non me le danno Allora Fammi vedere La Oh Oh Rimani giù Cazzo Mamma mia Ma cosa c'è lì Ma dov'è Ma dov'è Non mi uccidere No No Ma Non riesco a trovare No Maledetti Occhio Peccato un altro Sto ricaricando Ma Ma dov'è cadono Questi Chi No Scappa Grazie Grazie che mi hai salvato La vita Ce ne sono ancora Qua Che dici Proviamo a morire Fanno Fanno fattire Adans Bene Forza 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 Dai 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 Lugo muovi il culo Mi sto muovendo Copritemi Ecco che arrivano Attenzione Mi spazzo Cerca di non Povero Lugo Cioè non volevo farli scoppiare subito Però È successo Siamo Inchiudati Paglia fuori Forza 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 Sono secco Devo ricaricare Lugo Magari Se ti muovi Saicco Lugo Dai Lugaccio Lugo Chi è che gli spara? È là Bisogna buttare giù Tutto quel muretto Sono secco Forza Ricevuto Scendo Sono secco Non Io Che Sono secco Sto Che Me se ti sto coprendo dai 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 partiamo che ora non riesco a sparare più giù di un... ah beh perché c'è l'elicottero che si sta muovendo ma dai faccio dar giù le palme che Gatling Gatling? si Gatling si voglio vedere cosa può fare quest'arma cosa può fare guarda tira giù le palme distrugge tutto cosa sta succedendo? chi è che mi spara che non capisco no dai ma non capivo ma non esiste ma dai eh il 33esimo non vuole lasciare Dubai bene si impelliremo qua guarda tira attorno alla piscina Agass cosa? perché? voglio vedere cosa può fare quest'arma semplicemente mi vuole far diventare matto no 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 bene ecco portaci in basso bene tieniti madonna non si vede niente dai dai voglio mandare un messaggio a Zorra che vuoi dire? fallo e basta allora facciamo un altro tentativo devo vedere quel generatore non si vede niente Ehm, no Eh? Dove? Elicotteri? Dai, dov'è sta compagnia? Esatto Aspettate! C'è qualcosa che non va Eh, non è troppo tardi No, voglio dire, l'abbiamo già fatto Che vuoi dire? Ah, fa' un culo Non è niente, liberatevi di questi stronzi Ricevuto Adam, stacci dentro C'è mancato poco, Volket Vedi di farlo fuori Ehm, facile Non importa Mantieni ci stabili e basta Ci ha agganciato un missile Madonna Tempesta di sabbia Non puoi stare alle costole Porta, c'è te Crede tempesta, sei impazzito Credo che lo scoprirete Vai via, vai via, vai via Una bomba Eh, aia Eh, come no? Che uno rimane lì attaccato Volker? Capitano Volker Riesci a sentirmi? Colonnello Apre gli occhi, Volker Deve vedere cosa ha fatto Dubai Doveva morire molto tempo fa Ci hanno ordinato di abbandonare questa gente Invece abbiamo scelto la dannazione Cosa cavolo? Qua è un incubo Cosa? Chi c'è? Una delle tue vittime Quella che stava solo eseguendo gli ordini Non ci avete dato scelta? C'è sempre una scelta Solo che l'hai sputtanata Io abbiamo cercato di salvarvi Nel profondo Sapevi Che dovevamo morire tutti Non è stata colpa mia Capitano Lugo Aiuto Il giorno precedente al vostro arrivo A Dubai vivevano 5.000 persone Quante saranno vive oggi Mi chiedo Quante lo saranno domani Pensavo che il mio dovere fosse di proteggere questa città dalla tempesta Mi sbagliavo Devo proteggerla da voi Walker Ci sei? Dannazione Walker Se sei vivo rispondimi cazzo Colonnello Cosa? Sono Adams Cazzo amico Dove diavolo ti trovi? Non lo so ancora Lugo è con te Non lo sento da quando è caduto l'elicottero Cazzo Beh dove sei? Basta che segui il fumo Mi dirigo verso di te Vediamo se Un checkpoint Un checkpoint Quindi facciamo così Ci fermiamo Abbiamo fatto una puntata bella lunga Per vedere di finirlo Due ore Chiaramente spero che nei punti dove Insomma si andava a reliento Perché non apparivano uomini Abbiate Schippato Andando avanti Tranquillamente E che vi siate guardati L'episodio In più volte Vi ringrazio tanto Ci vediamo al prossimo episodio Sperando che siamo quasi verso la fine Perché praticamente un po' È bello Ma è una sofferenza giocarlo con questi tasti E Grazie per averci sento Ciao Alla prossima Alla prossima Ciao Alla prossima